Sì, no, non te l'ho guardato, mi stai bene. Cameriere? Cameriere? Da bere per me la ragazza, un trasecco subito. Chiamo il cazzo di cameriere. No, con cavolo, con cavolo, con cavolo. Come fare così? Ho chiesto al cameriere di portare un po' di prosecco, va bene? Il cameriere è un po' evitato. Oh, il prosecco. Incredibile. Diciamo nei 200 euro, ok? Dici se ci senti, rompi gli occhiali. Sei tu il cameriere, mi sa. Battiti contro il muro se ci senti. Prima provavo... Due bicchieri? Doveva aprirlo il cameriere. Dai, apriva. Quanto è il terreno? Provoci dappure. Per secondo te l'abito. L'apro io. Direi. Solo perché sono gentiluomo. Si vede. Molto. Comunque tornando a noi. Preferisci il rosè o quello normale? Uguale. Allora scelgo io. Rosè? Che fai dopo? A casa. Perché a casa? Mi voglio uscire oggi. Stiamo un po' stiamo? Ne due. Eh? Non è che si comporta proprio bene, eh? Ti ho detto semplicemente che a primo impatto le cose che vado a notare sono l'aspetto estetico. Mi hai tirato addosso... No. Tirare addosso sinceramente... Gli occhiali anche? Ok. Non stavano bene sul tavolo. No. Sono un po' arrogante. Le bottighe? Le? Mi hai tirato addosso anche le bottighe. L'ho fatto perché speravo sinceramente che mi dicessi di aprirle io. L'ho fatto quindi top perfetto. Oh. Non toccaremo stasera. Ok, sì. Solo quello però. Com'è? No, no, dimmi, dimmi. E adesso sia buona carina, vedete? No, è che stignante. E adesso sia carino? Sì. Che stessa tu? Che stessa anche tu. Grazie. Prego. Adesso... Guardate due. Step 2, 200. Sì. Ho violato. Quindi di ducchiere in maniera gentile, garbata. Quale bicchiere preferisci? No. Questo? Ok. Allora io... Ma fai glielo apri a lei. Non bevo. Non bevo. Lo sai. Quindi... Se vuoi aprirla a te che... Non vuole far figura. Fai gliela pinta e riprendilo. La prendi a te. Vabbè, sei una donna, non lo sai fare. D'altronde sei una donna, non è che lo sai fare. No. No. Cosa fai? Ah, è vero che tu lavori nelle discoteche? No. Non lavoro nelle discoteche. Mi piace ballare. Ok. Ti ti adatta questa cosa. Ok. Io vado spesso in discoteca, lo sai, mi piace ballare. E che centro che lavora in discoteca? Spesso in discoteca, pensavo che magari... Se io vado spesso in discoteca vuol dire che lavoro lì. Ho fatto un'allusione pensando che, stando tanto tempo in discoteca, magari tu potessi lavorare per qualche locale. No. Mi sembra molto bella. No, no. La voglio inserire. La baciata. Balliamo? Per cercare di toccarle il culo. Balliamo. Però prima la fai aprire. Non la fai aprire. Apro. Stappo e faccio in maniera galante. Galante. Cioè vogliamo fare i caffoni che... Dato che hai fatto il caffone tutto il tempo, fai il galante. Come fare? Almeno quello. A cosa vogliamo? Vabbè, questo stappo lo dedico alla chat. Alla chat. Perché devo dargli importanza. Bravo. Scusi, scusi, scusi. Allora. Eh? È per voi, ragazzi. È per voi. Ok. Allora. Sai come si dice in inglese? This is for you. Partino. Inizia a introdurre la roba del palco, metti la musica e inizia a ballare a baciata con lei. 200 euro questo step. E devi fingere di toccarle il culo continuamente. Metto un po' di prosecco, brindiamo e balliamo. A noi non puoi ballare. Non ti preoccupare. Ora te lo insegno io. La baciata. La baciata. A cosa vogliamo brindare? A noi. Ma lei è innamorata? Sì, scusa. Ma è bella. Ma è già fatta. Allora, musica maestro. Ma non puoi ballare. Ma te lo insegni, non ti preoccupare. Tanto non si vedrà nulla, c'è il tavolo davanti. Ok. Ok. Partino. È tutto al domani. Inizialmente è normale, poi inizialmente è più sensuale e scenderà anche da voi. Vuoto un po' le tasche perché vorrei fare una bella prestazione. Ok. Allora, ti spiego prima due cose, prima che parte. Sinistra, sinistra. Destra. Destra. L'importante è che ti lascio portare da sottoscritto perché ho fatto balli, cara e i bici. Tre anni. Tre anni. Tre anni. Io ci sono quando vuole maestro. Io ci sono quando vuole maestro. Non costante. Non costante. Non costante. Non costante. Voi quando vuole ha dato la contatto sul? Votre anni. Non costante. Cate via disperto'. потananza è l'angentrarta a la società. Non costante finanuele captaachi il mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon cento euro super meritato. Io non devo dare spiegazioni. La mia maestra mi ha insegnato questo. E' chiaro, masca. E' talentato. E' talentato? Vabbè, chiedo scusa se ti sei sentito offeso. Non lo so, incredibile. Questa cosa non mi è piaciuta per niente. Cos'è che? No, per niente proprio. Cosa? Per niente proprio. E' carina. Porta! Ma scusami, tu ne hai ballata la baciata? Ho sbagliato? Ho sbagliato nulla. Tu non ascoltavi la musica, si sono fermate le parole. La porta per favore. È un istante che è più strusciare. Ok. Ok, chat. Eccoci qua, chat. Ok. Frattino, tu parla nel mento, tanto nessuno ti ascolterà parola con la ciotia. Ci sei sentito offeso, ah? Chatt? 200 ore ottenuti, posso dire. Meditati. Meditati. Bravissimo. Ti passo a seguire. C'è la terza sfida, 500 ore di palio. Non sono quel tipo che cerca un approccio ballando con il contatto fisico. Ho chiesto una abbassata. Ho chiesto di una terza sfida da 500. 500, 500, 500. Ok. La carta portata, tutti scrivono. Li vince fratino i soldi comunque. Lei è stupendo. Per quello hai fatto? Sì, non ho bisogno nel senso di... Non ho bisogno di toccare una torta di treballo. Cioè, se poi mi hai detto che stiamo assieme... Bro, siamo urlato tantissimo, tantissimo, tantissimo. E ora davanti a... Mi metto a fare lo show. Se è passato questo... Ti voglio chiedere scuse in maniera sincera. Ok. Non hai detto che accette le mie scuse? Non accette le mie scuse. Non sei una persona rancorosa? No. Prova, 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 chat. Ci sentite? Adesso sto facendo il test io. Prova, prova, ci sentiamo. Chat, chat. Prova, 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 prova. Ce ne ho mai scuola. Ma anche tu. Zero. Vieni. Allora, in poche parole, ragazzi, partiamo con la terza sfida. Annuncia la grado. Ok, vieni qua. Cazzotta al tavolo. Asciugge. Tocca la sua. Tocca la sua. Ok, ci sente. La terza e l'ultima sfida. Farti vincere i 500 euro. Cos'è sto casino? Alexa, sta zitta. Inizia ti con Alexi e non con Alexa. Alexi di merda. No, ma non sta zitta. Terzo e ultimo step, bro. Hai vinto già 200 euro. Questo è per chiuderla. Non aspetto che sia un po'. 500 euro. Chi ti ha scritto che sono un po'? La devi far sedere sopra le tue amiche. No, no, no. E in qualche modo devi riuscire a darlo un bacio. Non ho scritto un bacio un po'. Un bocca al lupo. Tutte le tue mani. Non ho capito. Vediamo. Impossibile. Impossibile. Se lo fa MVP della live, sincero. Cos'è che va scritto la chat? Non ho... Ah, ok. Stavamo dicendo quinta e terza sfida. Stavamo dicendo terza e ultima sfida. La devi far sedere in braccio a te e provare a dargli un bacio. Ok. 500 euro. Tutto nelle tue mani. Allora io voglio ripartire, visto quello che hai detto. Bravo. Non so già di essermi giustificato. Se anche agli occhi delle persone a casa è risultato volgare la mia danza... No, ma serio, più serio, diglielo più serio. Un'arte. Sì, un modo di esprimermi. Puoi dire pure a questo ragazzo, a questa persona... Falla sorridere. Sei bella quando... No. Dille che è bella quando sorride. Dille che è bella quando sorride. Grazie. No, 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 no. Nuda. Nuda. Eh? Nuda? No, ma che dici? Bravo, bravo, così, così. Sto facendo bene, sto facendo bene. Però si sta avvicinando. Si suda. Si deve sedere sopra di te. Nulla? Ok. Ma qui non ci si vede. Aspetta, mettiamo una sedia bassa. Aspetta. Tu va? Dove vai? Brava. Pantissimo. Ci sono, ci sono, ci sono. Ragazzi, 500 euro. Se dopo un po', ragazzi, è passato il tempo, ovviamente ci saranno dei secondi. Ci saranno 30 secondi. Prego. Vitale, bravo. Tanto, siamo ieri. Tagliatino. Brindiamo assieme. Ma è. Ok. C'è uscito. Ok, vai, vai, bravo. Ora bacio, 500 euro. 500 euro bacio. Non ci sono. Fazzisco. Adesso. Poi togliere il berretto. Voi, ti scommi, no? Voi, ti scommi, no? Non ci sono scommi, no? No, no. All'indietro lo puoi mettere? Non ti vedo bene in video, almeno. No, no, no. Non so. Non metto il cappello all'indietro così che riesci a darle un bacio. Ma la c'è rossetto? È proprio forte. Vai, fratino. Rimani segno? Ok, ci siamo, ci siamo. No. È l'ora del bacio. Volevo dire a mamma che non sto facendo nulla di l'osco. Adesso facciamo un gioco. Pari e dispari. Ok. Se vinco io, ti do un bacio. E' completamente vero.